Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo appuntamento insieme su Battlefield Oggi siamo su Operation Firestorm, una delle mappe contenute nel nuovo DLC uscito proprio oggi, Second Assault Andiamo insieme a scoprire questa mappa da più vicino Allora, prendiamo lo scout, visto che le distanze in questa mappa sono abbastanza importanti E schieriamoci Come potete sentire i cecchini dominano questa mappa Cerchiamo di arrivare in un punto un po' alto per avere una visuale migliore Allora, qui il punto è alto ma la visuale non c'è Cerchiamo di andare qua sopra, dove c'è già il nostro alleato Allora, facciamo il giro, visto che dalla finestra non ci passiamo Ma come cazzo è possibile, Dio mio, da dove cazzo arriva questo? Allora, adesso Ce l'hanno ammazzato Proprio un istante prima che li sparassimo Eh, vabbè Qua ce n'è un altro Eccolo lì Morto Abbiamo un altro a destra Morto Allora Ce n'è uno sul tetto, se non sbaglio, proprio Lì Cazzo Cazzo Stai fermo Niente Alleluia Eccone un altro Abbiamo visto un altro a destra Solo che si stava spostando Allora, spostiamoci anche noi Perché stare tanto in un posto non è tanto consigliabile Allora, qua vedo un container inclinato Quindi penso che ci si possa passare attraverso Ok Allora, andiamo qua sopra Beh, la mappa comunque è molto carina Allora Andiamo avanti Ci sparano Guardate le fiamme come sono fatte bene Comunque Andiamo avanti C'era uno C'era uno C'era uno, c'era uno Eccolo lì Dove è andato a finire? Eccolo C'è un altro Restalo Bravo Cazzo E ci hanno uccisi Per questo che dicevo di non stare tanto in un posto Ma Non importa Allora Vediamo Ce n'è uno qui Morto Cazzo Cazzo Qua c'era un po' di lag Perché eravamo già oltre L'ostacolo Ma ci hanno uccisi lo stesso Comunque Vedete che il gioco È diventato quasi un only sniper E nelle mappe grandi comunque C'è sempre il rischio Che succedano queste cose Non è il massimo Del Della goduria Ma Questo dove cazzo spara? Ah da qua Ma perché spari a me? Ma Ma guarda che gente ho Questo dove cazzo vuole andare? Ok Mettiamo un segnalatore E qua Allora allarghiamoci un attimo nel gioco Vediamo fin dove si può arrivare Allora qua non c'è anima viva Sui tetti non c'è nessuno Però si sentono degli spari Provenienti da questa parte Saliamo Abbiamo un filo di vita Però Beh meglio che niente Cazzo Beh le metare Sempre le metare Stiamo pingando 179 E con un altro che pinga quasi 1000 E per quello che si gioca di merda Così Però Fa niente Ormai siamo in ballo E balliamo Ah siete come sparavi Dove cazzo sei andato? Questo è morto Cazzo Cazzo Mi ha spaventato Allora Laggiù non c'è nessuno Ma sarebbe l'ideale E riuscire a salire su quella gru Ma proviamoci Speriamo che nessuno ci veda Guardate che belle Ma che cazzo è? Ah È il Il calore Delle fiamme che ci stava Ammazzando Porca Troia Ok Allora Allora La torre Dove È qua Quindi Subito possiamo spawnare Spawniamo qua Allora Dobbiamo arrivare Su quella cazzo di gru Cioè dobbiamo Così eh Non è che Siamo obbligati Però Qua ci sparano sempre Madonna Santissima Questo coglione Che ci sparava Dove è andato Questo lì E' che non muore Cioè è morto Ma non mi ha dato la kill Boh Non so per quale cazzo di motivo Dai che stavolta Ce la facciamo Passiamo dietro Queste protezioni Ma Nessuno dovrebbe vederci Ma col culo che abbiamo Adesso qua Ce ne escono 50 Che ci aspettano Qua ce n'è uno Intanto Morto Non morto Morto Vaffanculo Non siamo riusciti Ad arrivare A quella cazzo di gru Porco Cane Niente ragazzi Mi sa che non ce la faremo Perché la partita E' quasi alla fine Ma forse riusciamo A ammazzarne ancora Uno Perfetto E infatti la partita è finita Perfetto ragazzi Io vi do appuntamento Al prossimo video Dove andremo a vedere Un'altra mappa Della nuova DLC Come sempre Vi invito a mettere Un mi piace Al video E iscrivervi al canale Ovviamente se vi è piaciuto E noi ci vediamo Al prossimo video Ciao a tutti Al prossimo video Ciao a tutti